A casa sicuramente con delle note molto positive, anche se c'è qualcosa ancora da sistemare. La vittoria però li premia. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata Luca? Sono andati in rete alla prima occasione dell'incontro, però cominciare bene è un merito. Poi loro su quel gol sono stati bravi a costruire le basi della vittoria. È finito il tempo a nostra disposizione. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e a presto Fabio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.